buongiorno a tutti da valerio rossi di br finanza oggi 29 ottobre 2024 ore 10.04 andiamo a vedere immediatamente quali sono stati i movimenti di questa ultima settimana direi estremamente interessante ho voluto aspettare a fare questo video anche per avere dei dati un po più importanti rispetto al passato soprattutto che ad alcuni di voi stupiranno sicuramente rispetto a quello che è stato l'andamento negli ultimi mesi perché il trend riacista che è sempre rimasto intatto nel medio lungo periodo ovviamente sta prendendo corpo e i risultati cominciano a vedersi in maniera abbastanza concreta andiamo a vedere di cosa cosa voglio parlarvi iniziando ovviamente dal grafico di bitcoin che come vedete decisamente superiore ai 71 mila dollari è partito ovviamente poco sopra di 60 mila ha cominciato vedete qui ha fatto un picco a 65 il giorno il 24 eccolo qui e anche qui vedete ha fatto un ulteriore ribasso 65 ha tentato di nuovo poi è ripartito decisamente intorno al 67 e siamo adesso 71 148 e mi hanno fatto addirittura un massimo a 71 e 500 circa come massimo vedete qui eccolo lì intorno 70 mila e 500 dollari e chiaramente quello che è la visione dal mio punto di vista ma non so soprattutto dei grandi analisti che seguo che vi propongo è quello che il target di 80 mila è abbastanza vicino soprattutto anche perché ci sono le elezioni in funzione anche delle elezioni indipendentemente che trump possa rivincere diciamo le elezioni che sostanzialmente aveva legittimamente vinto e che poi con delle manovre strane diciamo era stato messo una persona al posto suo ma non voglio parlare di politica diciamo che in entrambi i casi sia la candidata dem che lo gesto trump sono favorevoli al mercato cripto e quindi porterà semplicemente solo un beneficio da questo punto di vista quindi vediamo un po diciamo nella tarda mattinata ma soprattutto nella partura del mercato americano se questi nuovi prezzi come vedete che siamo in una fase laterale verranno riconfermate o ci sarà inevitabilmente come sempre stato un ritracciamento intorno ai 70 mila per poi ripartire verso i nuovi massimi storici mai raggiunti ma andiamo a vedere e nel suo complesso quello che con il market cap con il market cap la prima cosa così vi faccio notare è l'indice l'indice che era 50 una settimana fa adesso già 60 siamo già in una fase diciamo pre positiva perché siamo ancora dall'inizio rispetto ovviamente alla fase più importante ma è importante che l'asse diciamo l'asticella ci sia spostata verso diciamo la fiducia piuttosto che verso l'incertezza un altro dato importante è 58 e 0% di dominance quindi sempre di più al centro d'attenzione è bitcoin che quasi fa un quasi 60 per cento il mercato lo fa solo solo quello e addirittura come nel caso specifico come potete vedere ha superato i 1.400 miliardi di capitalizzazione in questo momento con un indicatore positivo negli ultimi sette giorni a 640 vedete la comparazione per esempio con il tirion con la numero 2 che ha meno 009 quindi praticamente stabile la percentuale ultime 24 ore è simile però nella settimana sicuramente l'interesse su bitcoin e chiaramente i primis blackrock e tutti anche i player finanziari importanti hanno indicato che bitcoin è sempre più importante solana la mia preferita numero 2 chiaramente continua a riservare soddisfazione ai propri investitori siamo più 943 leggermente più la metà rialza le ultime 24 ore però se spostiamo l'osservazione nell'ultima settimana ecco che diventa interessante doge ha ripreso prontamente quello che è stato il suo periodo di stasi e qui vediamo che è contrastato tra segni positivi e negativi non c'è particolari particolari cose da ecco a parte questa rune torchain però ecco qua pop cut ecco torniamo che le mme coin rientrano cominciano a riapparire però ricordatevi sempre come vi ho sempre detto in passato che si tratta di perito valute a bassa capitalizzazione e ad alto ad alto contenuto di rischio quindi questo è un po il la questione della della cosa adesso per quanto riguarda invece l'osservazione delle bolle vediamo qui le bolle eccolo qui che in finire come sempre delle dei miei video così per avere un senso grafico un'indicazione così è più interessante alternativa rispetto a quello che siamo abituati a vedere con i grafici con cose di questo tipo eccolo qua qui a livello di giornaliero ecco che doge più 15,1 abbiamo visto prima 17,7 addirittura questa ex rune bitcoin questo è una sotto critto di diciamo legata comunque bitcoin comunque bitcoin come vedete un più 4,2 che direi è sicuramente un dato eccellente considerando anche la sua capitalizzazione vedete che ci sono solo qualche piccola segnale rosso casse che aveva che era salito tantissimo l'anno scorso se spostiamo l'osservazione a livello settimanale ecco che la cosa cambia leggermente cominciano a spostarsi ovviamente tutto e come potete vedere questa pop cut che è una meme coin sono tutte vedete come potete vedere critto valute di minore di minore capitalizzazione di minore interesse e sicuramente sconosciuto sconosciute a molti insomma a me compreso ecco qua ecco per quanto riguarda mese ecco che qui c'è una sorpresa a dir poco incredibile questa spx 775 per cento signore in un mese è poco da dire cioè voglio dire beati chi l'ha comprato soprattutto che mi auguro che lo possano vendere rapidamente perché come possiamo vedere questo segno più eclatante altrettanto è possibile che faccia un ritracciamento violento e che riporti ovviamente i prezzi sotto altri tipi di segni infine per concludere con questo video ecco che siamo a livello annuale ecco che tornano questa spx addirittura 4076 la mog che l'avevamo vista l'ultima volta pepe coin che è la meme coin la bon che è sempre un'altra meme coin quindi vedete che sono tutte concentrate su critto valute ad alto contenuto di rischio e quindi chiaramente che vanno osservate con esterno con estrema prudenza e con estrema rigore e la cosa più interessante è che solana nonostante questo periodo di stasi mi rimane sopra i più 4 siamo a più 4 49 ma la cosa interessante è che bitcoin è tornato ovviamente oltre il 100% su base annua eccolo qua siamo al 106 per cento come potete vedere e contro un 46 esattamente doppio di etire 167 binance coin 4 49 solana 137 doge coin 140 tocco in 136 avalanche 128 shiba inu e 256 nia protocol 299 sui 738 pepe 546 bit and saw asia alliance che l'avevamo visto in altri video più 254 295 stax quindi vedete che prevale il segno positivo ed estremamente performante perché i signori partendo anche dalla della bitcoin comunque raddoppiare i capitali in un anno la sicurezza che ovviamente garantisce bitcoin direi che è una cosa che parla da sola i numeri parlano come dico sempre non mi resta ovviamente che ringraziarvi per la vostra cortese attenzione sono a vostra disposizione per quanto riguarda tutto l'aspetto formativo e informativo nel senso che io non vendo assolutamente prodotti finanziari non consiglio prodotti finanziari a nessuno ma mi occupo prevalentemente di formazione di insegnarvi di istruirvi e di darvi la possibilità autonomamente di poter gestire un wallet digitale in totale sicurezza vi ringrazio di nuovo per l'attenzione vi do l'appuntamento alla prossima analisi da Valerio Rossi di Viera Finanza Smart Education School oggi 29 ottobre ore 10 e 14 a presto a presto a presto Grazie a tutti